Enrico adesso ti menzionerà la quarta pianta. Lo spinaccio del Malabar. Lo assegno a Nicky Bryan, Chef, perché è una pianta dal sapore molto delicato, da quel che ho capito, ma invece Nicky è uno specialista, per così dire, della cucina etnica e delle spezie, quindi vi affido un piatto salato. Io se vuole mettermi in difficoltà, però sinceramente so cucinare pure in maniera delicata. Quinta pianta. Lo zucchero azzeco. L'assegno a Pietro, Chef. Se è dolce, la spanghiamo. Se è salato, è una vera sfida dura. Anche lui dovrà fare un piatto salato, Chef. Sei un caro amico, Christian. Passiamo al burro chiarificato ai fiori di canapa. Lo dovrà usare Mime. Farà un piatto dolce, Chef. Wow. Quello che non pone burro, burro cucina giapponese assolutamente zero. Ottava materia prima, Christian. A chi vuoi assegnare il black sapote e perché? Almeno il caco, il caco, il caco. Il caco. Il caco. Lo assegno ad Alia, Chef. Cucinerà un piatto salato, Chef. Passiamo adesso al top della difficoltà. Se, Christian, dopo essersi assegnato l'ingrediente più semplice, mi assegna la pianta Camembert, non mi dica mai più che vuole confrontarsi con me. Il rosmarino inigrolato. Spero che non l'è senza. A chi lo vuoi assegnare? Lo assegno a Tracy. Tracy dovrà cucinare un piatto dolce o un piatto salato? Tira un'altra mina. Dovrà cucinare un piatto dolce. Dolce no, perché io non ho ispirazioni per i dolci. Penultimo ingrediente. L'erba dell'immortalità. Va Alia, Chef. Lunga vita. Dovrà fare un piatto dolce e quella lì è un'erba amara e piccante. Christian è un serial killer perfetto. La più difficile che la vuoi dare a Carmine. Sì, Chef. Prevedibile. Eh, lo senti proprio come il tuo diretto competitor. Carmine, dovrà fare un piatto dolce o salato? Dovrà fare un piatto dolce, Chef. Mi sarei sentito molto più in difficoltà se mi avessi dato un piatto salato, Christian. Mi dispiace. Le assegnazioni sono state fatte, i missili sono partiti, adesso è guerra vera.